Il Bari viene in campo! Con il numero 1, Boris! Con il numero 3, Valerio Mantovani! Con il numero 4, Mattia Maita! Con il numero 7, Andrea Poliari! Con il numero 8, Amatia Tenali! Con il numero 15, Kevin Lasagna! Con il numero 19, Cesar Palletti! Con il numero 23, il capitano Francesco Pintari! Con il numero 25, Raffaele Fucino! Con il numero 28, Luzio Lella! E con il numero 93, Meli Torvaldo! A disposizione, De Lucci, Vissapido, Fatino, Novakovic, Belluomo, Scarpi, Tripantelli, Manzari, Favasuri, Ovaretin, Sacco, Familli! Allenatore, Moreno Loco! Allenatore, Moreno Loco! Allenatore, Moreno Loco!